Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la cronaca, mazzette per truccare gli appalti in Abruzzo e questa è la principale accusa che all'alba di questa mattina ha portato agli arresti domiciliari sette persone nell'ambito dell'operazione denominata Masterlist. I provvedimenti firmati dal GIP del Tribunale di Avezzano, Francesca Proietti, sono stati eseguiti dalla squadra mobile dell'Aquila, tutti particolari nel servizio di Daniela Rosone. L'operazione si chiama Masterlist e parla ancora una volta di appalti truccati, sette arresti ai domiciliari ad eseguirli nelle province dell'Aquila, Taramocchieti e Pescara, la squadra mobile del capoluogo coordinata dal dirigente Tommaso Niglio, su input della procura di Avezzano. I reati contestati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, falso e rivelazione di segreto d'ufficio. A finire in manette, ai domiciliari, Antonio Ruggeri di Avezzano, che è stato anche a capo della residenza sanitaria Exompi dell'Aquila, ex dipendente del Vaticano, Sergio Giancaterino di Penne, imprenditore di ILE ed affidatario di molti appalti pubblici, Antonio Ranieri, Aquilano, pubblico ufficiale con incarico di Ruppo nel comune di Campotosto e ancora Paolo Di Pietro, consigliere di maggioranza ed ex vice sindaco del comune di Canistro, Giuseppe Venturini di Tagliacozzo, amministratore della società CAM, Giuseppe D'Angelo, sindaco del comune di Casa Canditella nel Chietino ed infine Emiliano Pompa, imprenditore di Montori a Vomano. I PM titolari dell'inchiesta sono Roberto Savelli e Maurizio Maria Cerrato. I comuni passati al setaccio sono stati diversi. Nel caso di Canistro l'inchiesta parlerebbe anche di appalti per i lavori ai cimiteri, nei tempi in cui Di Pietro era assessore ai lavori pubblici con il sindaco Antonio Di Paolo. In un altro filone dell'inchiesta, nel milione della procura, anche appalti nei comuni di Ovindoli, Cappadocia e Cerchio. Stamattina intanto sono arrivate le dimissioni di Giuseppe Venturini da amministratore delegato del CAM. Ad innescare e dare il nome all'inchiesta sarà tra le altre cose una lista di ditte che per l'accusa si dovevano spartire numerosi appalti, sia in provincia dell'Aquila che nel resto della regione, scritte in un'agenda sequestrata nell'ambito della perquisizione effettuata ai danni di Gian Caterino. Secondo gli investigatori il meccanismo più usato era quello di rispondere alle gare con le ditte d'accordo con chi avrebbe dovuto vincere tra loro, stabilendo assieme il massimo ribasso. L'obiettivo era far partecipare tutto l'elenco delle ditte e far ruotare i vincitori. Dalle intercettazioni sarebbe emerso anche l'accordo relativo alla gara per il municipio di Canistro, appalto da 480 mila euro. 20 mila euro sarebbero andate alle ditte agli amministratori attraverso contributi e consulenze. L'appalto poi però non andò a buon fine. Le indagini hanno riguardato anche il comune di Campotosto, nell'Aquilano in particolar modo, l'appalto per la manutenzione dell'area di campeggio e della struttura del centro velico. Le aste pubbliche bandite dall'Unione dei Comuni delle Colline Tlatine, di cui il comune di Casa Canditella è capofila. A tal proposito, al centro dell'inchiesta, ci sono i lavori di riassetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle Grande del comune di San Martino sulla Marrucina e ancora a Capistrello la gara relativa ai lavori di manutenzione del depuratore eseguiti dal CAM. Andiamo adesso a parlare dell'omicidio Bevilacqua perché ieri c'è stato l'interrogatorio per Massimo Fantauzzi, il 46enne di Montesilvano, accusato dell'omicidio di Antonio Bevilacqua nel Risto Pub Birrami. Le dichiarazioni di Fantauzzi però sembrano un po' scombinare le carte, tirando in ballo anche la persona che era con lui quella sera. Una gambizzazione è andata male, finita in tragedia. L'interrogatorio di Massimo Fantauzzi rimescola le carte nella ricostruzione dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, il 21enne ucciso all'interno del Risto Pub Birrami di Montesilvano nella notte tra il 15 e il 16 settembre. Perché l'uomo che ha imbracciato materialmente il fucile, ha fatto fuoco, freddando Bevilacqua, ascoltato dal Jeep ha vuotato il sacco, ma raccontando una versione che combacia poco però con quella resa dal teste lo scorso 18 settembre. Teste che adesso torna prepotentemente in ballo, perché Fantauzzi ha ammesso di aver agito sì, ma senza l'intento di uccidere il ragazzo, solamente per dargli una lezione, non solo a lui, ma anche ad un'altra persona che era insieme al 21enne, ma soprattutto, ed è la parte sulla quale gli inquirenti si concentreranno, su istigazione dell'amico che era con Fantauzzi la notte incriminata. Pare inoltre che la parola infame non fosse rivolta a lui, ma proprio a chi lo accompagnava, persona che successivamente lo avrebbe aizzato convincendolo ad imbracciare un'arma. Dunque dopo la discussione il 46enne e l'amico sarebbero andati via dal pub in preda alla rabbia e si sarebbero recati nell'abitazione del presunto omicida per prendere il fucile e tornare nel pub con l'intento di dare una lezione al 21enne e all'altra persona che era insieme alla vittima. Poi il ritorno e il colpo che non doveva centrare Bevilacqua ad un occhio, ma alle gambe. Una volta compreso che il proiettile era stato fatale per il ragazzo, Fantauzzi avrebbe desistito dal proseguire la vendetta risparmiando così l'amico di Bevilacqua. Dunque la terza persona che fino a qualche ora fa era il super test della ricostruzione dell'omicidio, vede aggravarsi la propria posizione, perché potrebbe aver riferito ai carabinieri solamente una parte della storia, la propria versione, quello che lo avrebbe visto meno coinvolto, solo con il semplice ruolo di mediatore di chi si era dato da fare per stemperare la rabbia di Fantauzzi dopo il litigio all'interno del pub. Una versione che contrasta però con quella resa ieri dal 46enne interrogato per rogatore in un carcere fuori regione, che per l'appunto scombina le carte e collima anche con le dichiarazioni della mamma di Bevilacqua, che aveva apertamente parlato dell'esistenza di un mandante e di un complice per l'omicidio del figlio. Le indagini proseguono da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo e non si escludono ulteriori sviluppi per un mistero che continua ad infittirsi. Ancora cronaca, circa 15 mila euro il bottino di un colpo alla Tercas di Poggio Fiorito, in provincia di Chieti, compiuto nelle prime ore del mattino con un esplosivo. Distrutto il Bancomat, da cui poi i ladri hanno raccolto le banconote caricate dall'Istituto di Credito. Dopo il colpo i malviventi sono stati visti fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore grigio. Posti di blocco sono stati attivati in tutto il comprensorio, ma finora senza esito. Le indagini proseguono, coordinate dai carabinieri della Compagnia di Ortona, diretta dal Maggiore Roberto Ragucci. La Procura Generale di Perugia ha chiesto l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere dell'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano del Turco e degli altri imputati coinvolti nel processo bis sulla Sanitopoli abruzzese, in corso proprio nel capoluogo Umbro. Per tutti il magistrato, al termine del suo intervento, ha chiesto di rivedere a ribasso le condanne già inflitte in secondo grado all'Aquila. Presto potrebbe arrivare la decisione della Corte. Peraltro nel dicembre del 2016 la Cassazione aveva confermato la condanna di del Turco, oggi peraltro presente in aula, per induzione in debita, ma aveva annullato con rinvio la condanna d'appello riguardante l'accusa più pesante, quella appunto di associazione per delinquere. Per il sostituto procuratore generale Giuliano Mignini non c'è la prova che un sodalizio illecito abbia gestito la sanità abruzzese. Andiamo a pescare adesso manifestazione dei medici di base questa mattina davanti alla sede della Direzione Generale della ASL per chiedere meno norme burocratiche, inutili anche per i pazienti, il servizio di Paolo Renzetti. I medici di base scendono in piazza, oggi c'è questa manifestazione dinanzi alla sede della Direzione Generale della ASL di Pescara. Dottor Grimaldi quali sono i motivi di questa protesta? Ultimamente è arrivato una determina da parte di una dirigente della Regione Abruzzo, la quale questa determina ovviamente obbliga l'assistito a far riempire ulteriori modelli che il medico di famiglia non è tenuto a riempire e quindi c'è questo via vai di assistiti che vanno in riabitazione, si vengono a dire no, deve tornare indietro, è andata all'urologo, noi siamo stanchi di queste vessazioni da parte dell'ASL, siamo venuti più volte a parlare qui con la Direzione ma non c'è stato motivo di arrivare a un accordo, abbiamo stilato anche un verbale che il Direttore Sanitario non ha firmato fino ad oggi, ci ha sempre promesso che avrebbe rivisto, avrebbe rivisto, siamo qui per favorire questi ademplimenti per i cittadini che hanno bisogno. Comporta di nuovo un aggravio burocratico per noi, soprattutto per i pazienti, in termini di file, di spostamenti e si tratta spesso volentieri di anziani invalidi. Quindi abbiamo pensato di fare questa protesta giustissima, gli altri colleghi del tre province hanno ottenuto quello che noi oggi vogliamo ottenere e raggiungere dalla Direzione Generale Sanitaria dell'Alsa di Pescara, cioè far sì di ritornare a prima, dare la possibilità di prorogare noi stessi la possibilità di accedere alla fornitura di pannoloni senza dover addirittura autocertificare, questo è previsto da questa determina regionale, modalità e frequenza di una propria incontinenza, il che è veramente assurdo. Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha proclamato con un'ordinanza il lutto cittadino per la giornata di oggi, proprio a Lanciano, giornata nella quale si svolgeranno i funerali dell'ex vice sindaco e assessore della città Giuseppe Pino Valente, morto ieri all'ospedale di Chieti. L'ordinanza inoltre dispone l'esposizione a mezzasta, in segno di lutto cittadino, delle bandiere poste nel palazzo di città ed in tutti gli edifici comunali. Nello stesso documento è previsto il picchetto d'onore durante il corteo funebre dalla ex casa di conversazione alla cattedrale della Madonna del Ponte per la celebrazione dei funerali. Torniamo a Pescara, adesso approvato il nuovo piano sociale del Comune, importante contributo della lista Teodoro grazie ad un emendamento presentato e che fra i vari punti prevede la reperibilità di 24 ore degli assistenti sociali. Chi diceva che ottenuto l'assessorato, la lista Teodoro si fermasse nel migliorare delle delibere, sbagliato di grosso perché come vedete, come hanno potuto vedere i consiglieri comunali in aula, abbiamo presentato un emendamento con una serie di punti che hanno cambiato radicalmente il piano sociale. Ci siamo soffermati appunto su quello che è il nostro cavallo di battaglio sociale e che noi ritenevamo non essere quello presentato dalla Giunta adeguato totalmente all'interesse della comunità. I punti più importanti sono innanzitutto la reperibilità degli assistenti sociali. Riteniamo che una città di 130.000 abitanti deve avere in stato di necessità la reperibilità degli assistenti sociali. Non è che se c'è un caso di litigi in famiglia, si possono creare dei disagi e quant'altro. La polizia praticamente si trovava prima impreparata nel risolvere i problemi, per cui abbiamo dovuto individuare la reperibilità degli assistenti sociali che poi a ruote, a catena, potevano individuare delle risoluzioni immediate. Poi per quanto riguarda la cancelleria, erano scomparse le famose borse studio della regione, le abbiamo introdotte all'interno del PIS, quindi si poteva intervenire e si può intervenire chi vuole attraverso le sociali per chi ha necessità di comprare quaderni, astucce e quant'altro per fornire ai propri figli l'arredamento scolastico. E poi ancora l'aspetto riguardante al pagamento delle bollette. Prima chi si ricava presso le politiche sociali si vedeva pagato non totalmente, ma in parte la bolletta. Noi abbiamo tolto, in parte abbiamo sostituito la parola totalmente perché riteniamo che chi si rivolge presso i servizi sociali ovviamente ha un'esigenza impregnante, per cui non è che si può chiedere la compartecipazione, ma bisogna rilevarla totalmente. Ai lavoratori della Onewell, lo stabilimento di Atessa, sono arrivate le lettere che intimano di tornare al lavoro e di sospendere lo sciopero. Dura la risposta dei sindacati che non intendono assolutamente retrocedere, intanto non è stato ancora convocato il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, inizialmente previsto per il 2 ottobre. L'azienda sta praticamente utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, non è la prima ma la terza lettera che scrive ai lavoratori, minacciandoli, cercando in un certo modo di portare le persone ad avere paura di quello che stiamo facendo e noi adesso abbiamo deciso, questa sera quando comincerà a fare freddo, di scaldarci bruciando tutte quelle 500 lettere che l'azienda ha inviato, perché noi non indietreggeremo di un solo millimetro e perché noi non accettiamo nessun diktat e nessuna minaccia. Loro vorrebbero che noi rinunciassimo all'iniziativa di lotta per poi fare una finta discussione con la direzione aziendale, loro vorrebbero che noi in un certo qual modo ci preoccupassimo di più dei clienti, per noi i clienti della Anivel sono assolutamente importanti, non vogliamo fare del male a nessuno, ma lo sciopero è l'unico strumento che oggi noi abbiamo a disposizione per rimettere in discussione questa scelta accelerata di chiudere lo stabilimento, quindi non abbiamo paura, il senso di responsabilità è forte in noi e risponderemo colpo dopo colpo alle provocazioni dell'azienda. Il tavolo del 2 ottobre si farà? Non abbiamo ancora nessuna conferma, nel senso che l'azienda sostiene che potrà esserci un incontro solo qualora noi rinunciassimo allo sciopero, noi non rinunceremo allo sciopero fino a che non ci sarà un accordo scritto che preveda un piano industriale di rilancio del sito produttivo, quindi non siamo ancora in grado di dire se il 2 andremo oppure no ad incontrare l'azienda presso il Ministero. Aperto questa mattina a Pescara il tratto finale di via Misticoni, un passo avanti decisivo nell'ottica della rivoluzione del traffico nella zona di Porta Nuova con un miglior collegamento anche con il Palazzo di Giustizia. Via Misticoni aspettava dal 2002 l'anno del PUE in cui è stato sottoscritto, l'abbiamo portato avanti con grande caparbietà, l'amministrazione comunale Alessandrini e insieme a noi anche Porta Nuova 2000 che si è assunta per un obbligo solidale il completamento di questa strada per altri 125 mila euro. 650 sono fondi ex spine recuperati appunto dal comune tramite la regione Abruzzo per gli antellagamenti e ci ricordiamo tutti le foto di questa zona con macchine sommerse di acqua, quindi nuove pompe, nuova fognatura e nuova strada, oggi veramente siamo felici. Significa mettere in collegamento tutta la zona del Tribunale triplicando quelle che già sono via Marconi, via D'Annunzio e via Lento per ricollegarsi a via Lago di Campotosso e per arrivare a quel benedetto ponte Flaiano che ci consente di smaltire molto drastico nella città di Pescara. Taglio del nastro per via Misticoni, consigliere Teodoro, lei era stato uno dei primi a credere in quest'opera, a credere in questo progetto? Nella scorsa legislatura ero presidente di questa circoscrizione unitamente all'intero consiglio, ci siamo battuti affinché si potesse aprire e completare i lavori di questa arteria. Ci siamo battuti perché c'era un contenzioso aperto tra l'amministrazione comunale e l'impresa che non aveva finito di realizzare tantissime opere tra cui la parte della rete fognante. Di questa cosa fumo chiamati come consiglio di quartiere anche testimoniare in tribunale di questo. Ci siamo battuti fortemente e oggi sono contento e felice di poter vedere questa strada aperta perché tanti cittadini ci chiesero per anni che venisse aperta e migliorata la viabilità e oggi siamo arrivati a togliere un bosco, una fogna ce l'ha poi aperto, una palude e a fare veramente una strada a realizzare una viabilità che permette ai cittadini di muoversi con più serenità e libertà. Ci spostiamo nell'area Vestina adesso perché a distanza di otto mesi potranno iniziare i lavori per la riapertura al traffico della strada provinciale 20, collega Pianella a Loreto Aprutino, interdetta al traffico dallo scorso gennaio, il servizio di Vestina News. E' cominciato tutto il 17 gennaio quando il cedimento della scarpata di sinistra, il cui terreno ha invaso l'intera carreggiata e lo scioglimento delle nevi dopo causando lo scivolamento della scarpata di valle, portò alla decisione di chiudere il traffico sulla strada provinciale 20. Finalmente dopo otto mesi potranno cominciare i lavori per la riapertura della strada provinciale che collega Pianella a Loreto Aprutino in contrata cartiera. Il 20 settembre infatti è stata approvata la perizia per lavori urgenti che consente il parziale ripristino della transettabilità su una delle arterie più importanti che collega Pianella con i centri dell'area Vestina, che quotidianamente viene utilizzata dai lavoratori e studenti che raggiungono i centri della Val Pescara e Chieti. L'importo dell'intervento ammonta circa 83 mila euro e prevede l'installazione di un impianto semaforico da parte del comune di Pianella, che nel contempo permetterà di eseguire lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte attraverso il rafforzamento della palificata esistente con una gabbionata per poi ricostruire scarpata stradale compromessa. Questo primo intervento, commenta il presidente della provincia di Marco, consentirà di tamponare le situazioni ristabilendo il transito in sicurezza dei veicoli, ma successivamente si interverrà in modo definitivo sul fronte di valle per un ammontare di circa 550 mila euro, grazie a un finanziamento della regione Abruzzo destinato alla messa in sicurezza di questa strada e della provinciale 44 tra Scafa e Cepagatti. Non tarda ad arrivare la replica dei consiglieri di Forze di Libertà, che accusano il presidente della provincia di inefficienza. Nove mesi di attesa e disagi sono passati per poi ripristinare l'uso della strada con le modalità che noi stessi avevamo già suggerito alcuni mesi dopo. È inaccettabile che migliaia di cittadini dell'area vestina paghino sulla propria pelle la totale incapacità di affrontare adeguatamente i problemi e trovare tempestive soluzioni. Ci spostiamo a Teramo adesso perché è al via un progetto sulla medicina di genere sostenuto dalla fondazione Tercas in sinergia proprio con la ASL di Teramo. La fondazione ha donato l'azienda sanitaria un densitometro per la rilevazione dell'osteoporosi, una patologia che affligge soprattutto le donne. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Da oggi l'ASL di Teramo mette a disposizione dell'utenza un densitometro per la rilevazione dell'osteoporosi, una patologia che riguarda migliaia di donne. A donarglielo la fondazione Tercas che ha sposato un progetto di sensibilizzazione sulla cultura della medicina di genere. Che cos'è la medicina di genere? La medicina di genere è lungi dall'essere un'ennesima rivendicazione femminile. È la medicina che studia le manifestazioni delle malattie, come si manifestano negli uomini e nelle donne a seconda delle loro specificità, non solo da un punto di vista biologico ed anatomico ma anche soprattutto da un punto di vista psicologico e socioculturale. Quindi è la medicina della persona, la medicina del futuro, la medicina personalizzata. Non è sempre vero che la medicina neutrale penalizza le donne perché ci sta anche una medicina neutrale che non ha attenzione al genere e che penalizza anche gli uomini. Ma fino adesso come si è fatto? Ecco, fino adesso si è fatto male perché fino adesso è stata prestata poca attenzione alle donne e quindi di conseguenza è stata fatta una medicina neutrale. Questa medicina neutrale ha comportato molti rischi. Una sinergia preziosa, quella che si è instaurata tra la Fondazione Tercas e l'ASL di Teramo con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutte le donne. Noi riteniamo che questo sia uno dei tanti progetti che la collaborazione nel tempo ha avviato e concretizzato, realizzato con l'ASL. Chiaramente è una collaborazione che noi riteniamo sia molto importante perché si può lavorare in tanti ambiti e quello di cui parliamo oggi è sicuramente un ambito che ci appartiene, che mi appartiene come donna, però noi oggi vorremmo rimarcare che la medicina di genere in realtà non riguarda solo le donne ma è un approccio innovativo molto importante che vuole sanare quelle che sono le disuguaglianze tra uomo e donna. Arriva il densitometro anche a Teramo? Arriva anche a Teramo, arriva grazie al contributo determinante della Fondazione Tercas che dopo una serie di procedure è riuscita a installare nell'ospedale di Teramo questa attrezzatura. Noi crediamo che con questo contributo e con l'apporto della Fondazione Tercas potremo continuare a fare anche nei settori della ricerca medica, la ricerca sanitaria e della cura, nonché della prevenzione delle malattie, soprattutto nei confronti delle donne, un'operazione che alla fine sarà molto interessante e importante. Reabilitazione a casa per le donne operate di tumore al seno. L'Aquila per la vita torna alle cure domiciliari grazie ad un protocollo con la ASL, finanziato per 25 mila euro dalla Fondazione Abruzzo Risorge, ormai liquidata, creata dalla Regione all'indomani del sisma per iniziative solidarie. 25 mila euro per la fisioterapia riabilitativa per le donne sottoposte a intervento chirurgico per carcinoma mammario, gratuita e direttamente a casa delle pazienti. Come è sempre stato del resto, nello spirito dell'Associazione Aquilana L'Aquila per la vita, fondi che arrivano grazie alla Fondazione Abruzzo Risorge, ormai liquidata e creata nel dopo terremoto per iniziative di solidarietà. Un ottimo progetto fatto all'Associazione L'Aquila per la vita che ha avuto l'attenzione della Presidenza del Consiglio di questa regione attraverso dei fondi che noi abbiamo destinato circa 25 mila euro che sono economie derivanti dalla chiusura della Onlus Abruzzo Risorge creata nel 2009 all'indomani del sisma. Il progetto si chiama riabilitazione al femminile e partirà grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Aquila per la vita e la ASL, un protocollo che ha trovato diversi ostacoli sulla sua strada, ma i dirigenti e i tecnici della regione si sono impegnati per saltare gli ostacoli burocratici e arrivare così al risultato. L'importante collaborazione tra l'Aquila per la vita che come sapete è un'associazione di volontari, una Onlus che si occupa di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e poi l'alto apporto che ha visto e ha voluto il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio che ha destinato una quota importante per finanziare questa iniziativa per le donne che sono malate di sumone al seno e che grazie a questa collaborazione con l'ASL eviteranno il più possibile di ritornare in ospedale, ma avranno l'assistenza e delle prestazioni sanitarie nella loro casa. Il nostro motto, quello dell'Aquila per la vita, è le partite più difficili giochiamole in casa e allora abbiamo pensato anche al supporto del Consiglio regionale, del Presidente Di Pangrazio attraverso una donazione anche della fondazione della Onlus, l'Aquila, l'Abruzzo risorge, di acquistare dei materiali utili alla fisioterapia riabilitativa per le donne operate di carcinoma mammario e di andare direttamente a casa delle donne perché tornare in ospedale è sempre uno shock psicologico negativo e allora laddove è possibile noi interverremo con i nostri medici oncologi, con i nostri fisioterapisti riabilitatori e andremo a trovare le pazienti lì dove sono meglio, a casa loro. Adesso apriamo la pagina di sport perché il Pescara prosegue la preparazione in vista del match esterno. di sabato pomeriggio al Cabassi contro il Carpi, seduta singola quella di oggi per la squadra di Zeman, saranno regolarmente presenti in campo Zampano e Coulibaly che dopo lo stop di lunedì ieri si sono regolarmente allenati. Molto difficile invece il rientro dell'attaccante Mancuso che continua a lavorare in maniera differenziata. Resta dunque lunga la lista di assenze per il match di sabato, chi è a disposizione è il terzino Antonio Mazzotta che in questa intervista parla del suo inizio di stagione e di quello della squadra. Andrea Costantini. Mazzotta, un pareggio a Cremona molto poco zemaniano, zero gol e anche pochissime occasioni, un aspetto molto diverso rispetto agli ultimi pareggi intanto. Sì, sicuramente sappiamo che dobbiamo migliorare tanto, ci stiamo allenando sicuramente per crescere perché dobbiamo portare al campo le cose che ci chiede il mister. Però giocavamo in un campo difficilissimo, sicuramente abbiamo affrontato una squadra buona per la B, ci teniamo il pareggio, pensiamo alle cose positive che non abbiamo subito gol e niente. Sappiamo che dobbiamo migliorare tanto. Senti, a volte ci sono dei blackout come si è visto con l'Entella, come se staccaste la spina quando la partita sembra in controllo. Perché accadono queste cose secondo te? Eh, non lo sappiamo veramente nemmeno noi. Il mister sta analizzando tutto e sicuramente dobbiamo migliorare. Lavoreremo per far sì che non capitano più queste cose. Sicuramente ci stiamo portando dietro qualche cosa della passata stagione, della retrocessione perché l'ho subito anche l'anno scorso con il Frosinone perché pure noi all'inizio non facciamo benissimo perché subentrava un paura, non lo so che cosa subentrava. Sono sicuro che col passare le altre partite faremo sempre meglio. Antonio, la tua precedente esperienza in Biancazzurro non è stata particolarmente felice. Come giudichi questo inizio di stagione dal punto di vista personale? Dal punto di vista personale mi sto trovando bene, dai, sia col mister, con gli schemi, con tutto. Io l'ho detto anche all'inizio. Io vorrei dimostrare quello che non ho dimostrato nelle passate stagioni qui a Pescara e penso solo a lavorare, a dare il 100% in campo e poi a mettermi a disposizione della squadra. Io sono venuto che volevo rimanere, volevo mettere in difficoltà, mi volevo giocare le mie carte. Mi fa piacere che il mister mi abbia voluto tenere qui a Pescara e adesso spero solo di ripagare la sua fiducia perché me ne sta dando tanto e spero di ripagarlo con le prestazioni in campo. Sarà il progetto del nuovo stadio, il tema del seminario che si terrà domani pomeriggio dalle ore 16 alla Camera di Commercio di Pescara in collaborazione proprio tra Delfino Pescara e Proger SPA. Saranno presenti il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, l'amministratore delegato di Proger, Umberto Sgambati, progettisti incaricati Giovanni Baccarini, Roberto Dorazio e Marco Sandrucci. L'incontro sarà coordinato da Antonello Ricci. Il progetto del nuovo stadio del Pescara non è solo l'occasione per affidare ai tifosi un impianto più sicuro e confortevole in linea con le nuove regole dell'UEFA e con le esperienze più recenti dei migliori club europei ma anche un'importante opportunità di sviluppo per la città e la regione. Dunque il seminario domani alle ore 16 alla Camera di Commercio di Pescara. Scendiamo in Serie C adesso perché ieri sera ospite dei nostri studi il direttore sportivo del Teramo Giorgio Repetto ha fatto il punto della situazione in casa Biancolosa, ha parlato di mercato, della sconfitta di Pordenone anche del campionato che attende il Teramo. Io sono arrivato qua con la società che mi ha detto che c'erano dei grossi limiti nel poter fare mercato. Quindi se io ho accettato è chiaro che ho accettato con i famosi nuovi giocatori fuori rosa diciamo ma non scelti né dalla natura né da me con un capitale per fare la squadra abbastanza ridotto. Quindi lo sapevamo. È chiaro che anche al mercato un piccolo sforzo gliel'avevo chiesto al Presidente ma onestamente non c'erano le possibilità. Mi sono accorto anche il perché. Perché un mese dopo la società per pagare lo stipendio di giugno ha dovuto cacciare fuori i 300 mila euro dell'anno scorso. Io penso che noi con 300 mila euro ci paghiamo penso quattro stipendi quest'anno. Insomma a occhio. È una squadra che non puoi riprendere dal punto di vista dell'impegno sia in allenamento sia in partita. Io oggi se dovessi trovare uno che non si è impegnato non lo trovo. Io mi ricordo la conferenza stampa di quando siamo stati presentati. Allora si parlava chiaramente di un anno in cui si cercava e disperatamente. Eccola qua. Esatto. Si cercava disperatamente di salvarsi. Esatto. Poi io ho detto pure una volta che ci saremmo salvato. È una gestione dell'emergenza. Esatto. È una gestione dell'emergenza. Dopodiché faranno magari persone più brave o la società, quello che è. Ma questa è un'annata, la chiami è un'annata zero, la chiamala come vuoi. Ma è un'annata in cui non c'è la possibilità. Per ricostruire. Inizia a ricostruire. Devi tentare di mantenere la categoria per poi permettere al Teramo di ritrovare i fasti che aveva diciamo assaporato tre anni fa. E se la domanda è sei soddisfatto di avere quattro punti, tu fammela. Sì. Il resto sono tutte stronzate. Voglio dire che facevi un gollano, la facevi. Mi sembra un pochettino di confusione, Thomas. Mi ricordo trasmissioni televisive di un po' di anni fa dove si faceva solo C. C'era anche il Pescara allora in C. E erano le sette sorelle. Le sette sorelle. Siamo rimasti in due a fare calcio. Sansovini alla Fermana che onestamente ha qualche vantaggio economico e basta. Onestamente avrei preferito... Non ritrovarselo contro. Beh, avrei preferito sì. Onestamente l'avrei dato più a una squadra o di quarta serie come c'era allora il Mantua in condizione oppure... Ma lì probabilmente c'erano delle questioni contrattuali, cioè andare nei dilettanti. Sì, no, lì c'è il problema che lui ha un contratto ancora per l'anno prossimo col Pescara, per cui se vai nei dilettanti perdi lo status da professionista, per cui non puoi più ricevere quel compenso per l'anno dopo. Quindi te lo dovrebbero anticipare tutto l'anno prima. Capito? Assolutamente. Un po' complicato. Ma Giorgio Revetto quando rinnova con il Teramo? Ma guarda, io spero che ci serviamo e poi il Presidente se serviamo... Ah, cioè proprio arriverete... Sì, no, alla fine. Arriverete proprio alla fine, eh? Ma con lui arriviamo sempre alla fine perché io non gli rompo i coglioni, lui non mi dice niente, dopodiché o mi caccia o... Secondo me molto sarà dettato dai risultati. È normale, voglio dire, non è... Voglio dire, non devo fare carriera. È l'unica cosa buona che ho, che non devo fare carriera. Tra due mesi faccio 65 anni, quindi... E con questo servizio si conclude anche la seconda edizione del TG6. La prossima alle ore 23, l'edizione della notte. È tutto, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.